Time Machine Channel è lieta di presentarvi Superclassifica SHOCK! Bentornati amici di DJ Shock! Ecco per voi una nuova classifica dalla musica super magnifica! Al terzo posto abbiamo una vecchia conoscenza, Mr. X con un classico del genere, la Torpedo Blu! Allacciate le cinture, si parte! Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu! Automobile e sportiva, che mi tampono di gioventù! Già ti vedo elegantissima, come al solito sei tu! Sembrerai un'imagine agro sulla mia Torpedo Blu! Fido se no, un bel doppio petto, ed un cappellone, come al capone, e in camicetta, e maxigonna, tu mi accenderai il siganone! Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù! E mi troverai seduto, sulla mia Torpedo Blu! Arrivederci! I motori non smettono di rombare, e il trio Chopper impenna alla seconda posizione, con la mia moto sgasamento! La puzza di benzina mi fa girar la testa, quando sto su di lei, è proprio la mia testa! Una brutta canzone! Mi guardo quando passo, sui vetri dei negozi, mi accorgo che con lei mi sento proprio forzi! Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata, per esser sorridente basta una lucidata, e quando io la guardo, e penso che è la mia, non sento il più gasato, pischello che ci sia! Ma lo sai, c'è una bella moto, stasera voglio uscire con te! Sì! Ma lo sai, con voi la bella moto, stasera sarò tutta 30! Sei come la mia moto, sei proprio come lei, andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei, io ci starei! Sei come la mia moto, sei proprio come lei, andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei, io ci starei! E in prima posizione abbiamo una bellezza dal Giappone, la signorina Fujiko lascia tutti senza fiato, vai col liscio! Chi lo sa che faccia? Chi sa chi è? Tutti sanno che si chiama Luke! Era qui un momento fa? Chi sa dov'è? E dappertutto hanno visto Luke! Ogni porta si aprirà! Chi sa perché? Se la carezza Luke! Sto tremando qui dentro di me! Chi lo sa! Stanotte tocca a me! Se gioielli e denari e tesori non ho! Agli open! Il mio cuore darò! Il mio cuore darò! Il mio cuore darò! Il mio cuore darò! Per la strada di iscrivervi al canale! E scrivete nei commenti la canzone preferita per il classificone finale! ciao e ve ne pare gente questa è la volta buona per vedere chi è veramente il più bravo, siete d'accordo con me? si, si, inizia